Io la definirei un'oscenità, non si può più sopportare al giorno d'oggi una schifezza del genere, che l'uomo sia ridotto a tanta scemenza, che non ha altre idee nella testa, che si sfoga così i giovani, che non hanno più nessun riferimento, nessun valore, nessuno glieli dà più questi riferimenti, questi valori, questi principi, diciamo morali anche. Che qui pare che quando si parli di morale, si parla di bigotteria, non è così, non è così, i principi morali sono sempre belli da attuare. Quando si accorta? Una decina di giorni fa, passando per caso, ho visto e dopo mi sono riproposto subito di chiamare voi perché mostraste questo scempio. Questi sono casi popolari? Sì, sì, sì. Vorrebbe che questa scritta venisse in qualche modo cancellata? Cancellata, cancellata, perché poi c'è da dire che c'è un'indifferenza totale tra la gente, qualcuno fa qualcosa e si lascia lì, si lascia lì nell'indifferenza più totale, capito? Come se non riguardasse nessuno. E la dignità dov'è?